Benvenuti alla lettura del Libro dei Medium di Allan Kardec. Ci troviamo di fronte al capitolo 3, Manifestazioni intelligenti. In ciò che abbiamo osservato fino a questo momento, niente sicuramente rivela l'intervento di un potere occulto e questi effetti potrebbero perfettamente spiegarsi con l'azione di una corrente elettrica o magnetica o con l'azione di un qualsiasi fluido. Tale è stata in effetti la prima spiegazione data a questi fenomeni e che poteva, con ragione, passare per logicissima. Essa avrebbe senza dubbio prevalso se altri fatti non sarebbero venuti a dimostrare la insufficienza. Questi fatti sono le prove di intelligenza che tali fenomeni hanno dato. Ora, siccome ogni effetto intelligente deve avere una causa intelligente, risultava evidente che anche ammettendo che l'elettricità o qualsiasi alto fluido vi giocassino a qualche parte, un'altra causa si mescolava. Qual era questa causa? Qual era questa intelligenza? Questa è ciò che le successive osservazioni hanno fatto crescere. 66. Perché una manifestazione sia intelligente, non è necessario che essa sia eloquente, arguta o sapiente. È sufficiente che essa provi che è un atto libero e volontario, il quale esprime un'intenzione o una risposta o un pensiero. Vi sicuro, quando uno vede una banderuola agitata dal vento, è ben certo che essa obbedisce solo a un'impulsione meccanica. Ma se si riconoscessero nei movimenti della banderuola dei segni intenzionali, se essa girasse a destra o a sinistra velocemente o con lentezza al comando, si sarebbe ben costretti ad ammettere non già che la banderuola è intelligente, ma che essa obbedisce a una intelligenza. Questo è ciò che è avvenuto riguardo alla tavola. Noi abbiamo visto la tavola muoversi, sollevarsi e battere dei colpi, sotto l'influenza di uno o più medium. Il primo effetto intelligente osservato è quello stato di vedere come questi movimenti obbedissero al comando. Così, senza cambiare di posto, la tavola si sollevava alternativamente sul piede prestabilito, poi ricadendo battendo un numero determinato di colpi, rispondendo così a una domanda. Altre volte la tavola, senza il contatto di alcuno, passeggiava tutta sola nella stanza, andando a destra o a sinistra, o avanti o indietro, eseguendo movimenti diversi su ordini degli astanti. Oppure, più che evidente, che noi scartiamo ogni supposizione di frode, che ammettiamo la perfetta lealtà degli astanti, attestata dalla loro onorabilità e dal loro perfetto disinteresse. Più avanti parleremo degli inganni contro i quali è prudente stare in guardia. 68. Per mezzo dei colpi battuti, e soprattutto per mezzo degli scricchioli di cui abbiamo appena parlato, si ottengono degli effetti ancora più intelligenti. Come l'imitazione dei diversi rulli del tamburo, o l'imitazione della guerriglia con fuochi di fila, o di plotone, o di canonate per lo striio della sega, o colpi del martello, il ritmo di diverse aree, questa era, come si può ben comprendere, un vasto campo aperto all'esplorazione. Si disse allora che, poiché c'era lì un'intelligenza occulta, essa doveva poter rispondere alle domande. E in effetti, essa rispose con il sì e con il no, attraverso un numero di colpi di convenzione, essendo però queste risposte assai insignificanti. Fu per questo che si idea l'idea di far segnare le lettere dell'alfabeto così da comporre delle parole e delle frasi. 69. Questi fatti, ripetuti a volontà da migliaia di persone e in tutti i paesi, non potevano lasciare dubbi della natura intelligenza e delle manifestazioni. Fu allora che risorse un nuovo sistema, secondo cui questa intelligenza non sarebbe altro che l'intelligenza del medium, dell'interrogante o della stessa degli astanti. Gli astanti sono le persone che partecipano alla seduta. Le difficoltà consisteva nello spiegare come questa intelligenza potesse riflettersi nella tavola e tradursi con dei colpi, dal momento che era accertato che questi colpi non erano battuti dal medium, essi lo erano dunque dal pensiero. Ora il pensiero che batte dei colpi era un fenomeno ancora più prodigioso di tutti quelli cui si era testimoni. L'esperienza non tardò a dimostrare l'inammissibilità di questa opinione. In effetti, le risposte si trovavano assai spesso in opposizione formale con il pensiero degli astanti, al di fuori della portata intellettuale dei medium e anche in lingue da lui ignorate o fatti a lui sconosciuti. Gli esempi sono così numerosi che è quasi impossibile che chiunque si sia minimamente occupato di comunicazione spiritista non sia stato parecchie volte testimone. Noi non citeremo che un solo fatto che ci è stato riportato da un testimone oculare. 70. Su una nave della marina imperiale francese che stazionava nei mari della Cina, tutto l'equipaggio dei marinai, allo stato maggiore, era intento a far parlare le tavole. Si ebbe l'idea di evocare lo spirito di un luogo tenente del medesimo vascello, morto da due anni, e gli venne. E dopo varie comunicazioni che riempirono tutti di stupore, visse quanto segue battendo dei colpi. Io vi prego di far avere senza indugio al capitano la somma di e indicava la cifra, che io gli devo e che l'impiango di non aver potuto restituirgli prima della mia morte. Nessuno conosceva il fatto. Il capitano stesso aveva dimenticato questo credito, assai minimo del resto. Ma cercando nei suoi conti vi trovo la notazione del debito del luogo tenente. La cifra all'indicata era perfettamente esata. Chiediamoci dunque di quale pensiero questa indicazione avrebbe mai potuto essere nel riflesso. 71 L'arte di comunicare si perfezionò attraverso i colpi alfabetici, ma il mezzo era sempre molto lungo. Si ottennero tuttavia comunicazioni di una certa astensione, così come interessanti le lavorazioni sul mondo degli spiriti. Egli ne indicarono altri, ed è a loro che si deve in mezzo a delle comunicazioni scritte. Le prime comunicazioni di questo genere avvennero adattando una matita al piede di una leggera tavola appoggiata su un foglio di carta. La tavola, messa in movimento dall'influenza di un medium, si mise a tracciare dei caratteri, delle parole e poi delle intere frasi. Successivamente si semplificò questo mezzo, servendosi di piccole tavole della misura di una mano e fatte appositamente. Si posò poi a dei canestri o delle scatole di cartone e infine a delle semplicissime assicelle. La scrittura è anche scorrevole, rapida e facile con la mano. Ma più tardi si conobbbero che tutti gli oggetti non erano in definitiva che degli appendici dei veri propri portamatite, di cui si poteva fare a meno. Tenendo il medium con la sua stessa mano la matita, la mano trascinata da un movimento involontario scriveva sotto l'impulso che gli imprimeva lo spirito e senza il concorso né della volontà né del pensiero né del medium. Da allora le comunicazioni d'oltre tomba non ne erano più limiti di quanti non ne abbia l'abituale corrispondenza tra i viventi. Torneremo su questi differenti mezzi che spiegheremo nei particolari. Li abbiamo rapidamente accennati per mostrare la successione dei fatti che ci hanno condotto a constatare in questi fenomeni di intervento di intelligenze occulte, altrimenti dette spiriti.